Bella raga, tre consigli fondamentali, meglio dire, tre regole da rispettare rigorosamente. Primo, in bobina abbiamo il trecciato e serve sicuramente l'obbligo dell'utilizzo del fluorocarbon o del nylon, meglio il nylon perché è sicuro esempio. In store potete trovarne cinque modelli da fare e uno già pronto. Seconda cosa, l'utilizzo di teste piombate in sicurezza. Teste piombate, le uniche che io personalmente ho provato e ne ho provate tante anche self-made, le uniche che reggono davvero sono le macchie Gold di Getty. 8-0, 10-0, 12-0. Sfatiamo il mito, il siluro è cieco, quindi vede le ombre. Sente le vibrazioni e gli odori. Noi vi proponiamo una gomma già super testata, Pesche Evolution Shand. È un'esca nuova, innovativa. Lasciate stare il colore, è aromatizzata al gambero e al calamaro. È come un artificiale snodato. E, ascoltatemi bene, nei posti più pressati, che gli artificiali li conoscono a memoria, di questo è una pizza, questo è un hamburger, questo è un patatina, questo non sanno che cos'è, quindi li fottete. Non ci sono altre spiegazioni. Nei posti più pressati, una vibrazione nuova dà risultato. Provare per credere. Grazie. 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 Grazie.